Sabato 30 dicembre si è svolto il triangolare di calcio solidale intitolato Derby per la vita. Sasseri Calcio Latte Dolce, Torres e Atletico Uri si sono messi a disposizione per un evento meritorio. L'intero ricavato è stato devoluto all'associazione Prometeo. L'associazione tra piantati Prometeo ricorda che a Sassari è possibile far registrare presso l'ufficio onagrafe la propria dichiarazione e volontà sulla donazione in caso di morte. La Prometeo è affiliata a ITF con l'associazione italiana tra piantati di organi. Eventuali chiarimenti si possono trovare sul sito www.prometeotrappianti.it. L'evento è stato presenziato al Vanni San alla dottoressa Paola Murgia, coordinatrice locale dei prelievi e dei tre pianti all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Una volta tanto non era importante il risultato finale perché hanno vinto tutte e tre le squadre.